In questa puntata parleremo di apnee notturne. Vediamo un pochino di cosa si tratta. Il tema è trattato dal professor Alfredo Potena, che ha una lunghissima esperienza in materia. Al di là della sua specialità, doppia naturalmente, per quanto riguarda l'apparato respiratorio e il cardiocircolatorio, il professor Potena ha una lunghissima esperienza proprio sul tema e quindi sarà in grado di affrontarlo in tutte le sue caratteristiche. È importante ricordare una cosa per quanto riguarda questa patologia. È una patologia molto frequente, intanto, al di là di quello che è conosciuto normalmente. Dal punto di vista epidemiologico colpisce circa un 7% della popolazione, quasi alla stregua del diabete. È una patologia subdola, perché molti non sanno purtroppo di averla. È una patologia che ha due, diciamo, risvolti particolarissimi. Uno che riguarda il soggetto, il paziente, perché se non scoperta e se non trattata in tempi giusti ed adeguati, può dare origine a gravissime problematiche, soprattutto sul cardiocircolatorio. Per quanto riguarda l'altro aspetto a cui accennavo, tutti sappiamo che quando andiamo o per fare la patente o le visite per il rinnovo della patente, il medico che ci controlla, ci fa questa domanda, ci chiede se soffriamo, se abbiamo cognizione di soffrire di questa patologia. Dobbiamo sottoporci a dei controlli, perché la patente non viene rilassiata, se non ci sono prima dei controlli molto particolari, e nel caso in cui il controllo sia positivo, oltre certi limiti, certi livelli, quindi con rischi che ci possono essere per quanto riguarda la guida, per chi guida, ma anche per chi è per strada, per gli altri, addirittura sarà la commissione, una commissione speciale e particolare, che darà una risposta sul rinnovo o sul consegno della patente. Parliamo di apnee notturne, perché abbiamo sentito che sono un disturbo sottovalutato, forse poco conosciuto, ma che può incidere moltissimo sulla qualità della nostra vita. Che cosa sono le apnee notturne? Tutto quello che lei ha premesso è assolutamente vero. Le apnee notturne sono dei disturbi respiratori del sonno, Ovvero, compaiono durante la notte delle assenze di respiro in determinati soggetti, e queste assenze di respiro determinano alcuni problemi al fisico, perché l'ossigeno nel sangue improvvisamente si abbassa, mandando in sofferenza alcuni organi che noi definiamo organi nobili, il cervello, il cuore, il fegato, il rene, e pertanto la somma di questi eventi può danneggiare il fisico e l'organismo. Per cui è molto importante non soltanto verificare la presenza di apnee, ma anche, come vedremo, di quantificarne il numero e la frequenza per ogni ora di sonno. Come ci si accorge di avere questo disturbo e come si fa a quantificare e capire, cioè quanto incida sulla nostra salute? In genere chi si accorge di questo disturbo sono i partner. Dico i partner, ma dovrei dire le mogli, perché in genere la frequenza, la prevalenza del disturbo è maggiore negli uomini. E le donne sono particolarmente allarmate, non solo per l'assenza del respiro, ma perché le apnee sono precedute e accompagnate praticamente sempre da un altro sintomo particolarmente fastidioso e rumoroso che impatta sulla qualità del sonno di una coppia. E sto parlando del russamento. Il russamento è una fase che precede le apnee e che merita anch'essa, come sintomatologia, una riflessione. Noi vogliamo sapere tutto, allora. Perché sentiamo che è diventato un tema abbastanza di attualità, nel senso che la medicina se ne sta occupando. Beh, intanto diciamo questo. Con il passare del tempo, man mano che le decadi di vita salgono, in particolare dai 30 in su, gli individui vuoi per caratteristiche genetiche, vuoi perché il benessere e l'alimentazione spingono verso un aumento di peso, vedono aumentare lo spessore dei tessuti molli che contornano le vie aeree all'interno. Cioè, da dopo le cavità nasali, le vie aeree cominciano a, così come il nostro collo, per esempio, il collo lo fa all'esterno, le vie aeree lo fanno all'interno, aumentano i tessuti molli. La respirazione notturna, che diciamo è abbastanza diversa rispetto a quella diurna, fa sì che queste parti molli entrino in vibrazioni, vibrazioni che si traducono in russamento. Detto questo, capita un altro fenomeno. Andando avanti, con l'età, l'aumento del peso e il respiro russante, il sonno si caratterizza per diverse fasi. Quando noi cominciamo a dormire, prima abbiamo un sonno lieve, poi abbiamo un sonno leggermente più pesante e poi entriamo nella fase del sonno REM, quello in cui tutti i nostri muscoli perdono qualsiasi tono. Insieme ai muscoli scheletrici, perde tono un altro muscolo particolarmente importante, che è la lingua. La lingua, perdendo tono, nel sonno, precipita all'indietro, andando a ricoprire le vie aeree, quindi andando a ricoprire la ringe e impedendo il passaggio di aria. Questo è lo sviluppo dell'apnea dal punto di vista meccanico. Perdita di tono della lingua e suo rovesciamento all'indietro con sviluppo di una fase di totale apnea. Dovrebbe essere fisiologico questo momento di sonno REM e quindi anche di perdita di tono muscolare quando diventa patologico? Il sonno REM diventa patologico quando le vie aeree sono così ristrette per l'aumento delle parti molli e per la perdita di tono muscolare si determina questo arretramento della lingua generando un'apnea che innesca altri meccanismi. Apnea seguita da ipossiemia arteriosa che si accompagna a tachicardia e si accompagna, se posso definirlo con un'immagine più colorita, si accompagna a un insieme di come dire, cortocircuiti dei relai che abbiamo nell'organismo per cui il soggetto cosa fa? Si risveglia improvvisamente ma senza accorgersene perché è in una fase di sonno REM quindi il susseguirsi delle apnee è tale per cui un soggetto dorme, smette di respirare si risveglia improvvisamente noi li chiamiamo arousals però voglio dire è un risveglio senza coscienza e poi il soggetto continua a dormire russare e fare nuove apnee ora fisiologicamente noi possiamo tollerare fino a 10 apnee per ora ma quando il numero delle apnee supera le 10 per ora abbiamo bisogno di inserire un processo di cura come si cura una volta fatta la diagnosi? la diagnosi come sempre è preceduta da una valutazione clinica il paziente riferisce al medico oppure il medico viste determinate caratteristiche del paziente intuisce che si può essere in presenza di un soggetto apnoico e quindi dal punto di vista anamnestico si va a indagare uno dei sintomi che più spesso accompagnano la presenza di apnee questi sintomi sono la stanchezza diurna e la facile addormentabilità del soggetto oltre a una perdita di attenzione una sorta di apatia c'è un test per esempio in cui vengono indagate alcune situazioni paziente seduto a leggere un libro oppure seduto in poltrona dopo aver consumato il pranzo senza aver bevuto alcolici per esempio paziente che è allo stato alla guida dell'auto e che si ferma ad un semaforo e avverte una sorta di appisolamento oppure paziente che anche durante la guida dell'auto oppure come passeggero in auto può avere delle crisi di addormentamento ecco attraverso questo test che si chiama il test del sonno di Epworth è possibile capire se il paziente ha bisogno di essere ulteriormente indagato il gold standard diagnostico delle apnee nottune è rappresentato dalla polisonnografia o meglio ancora per essere più precisi dal punto di vista tecnico da un monitoraggio cardiorespiratorio del sonno durante la notte quindi è un apparecchio che il paziente potenziale si porta a casa? sì è un test che prima veniva fatto negli ospedali poi dopo la metà degli anni 90 gli studi e l'esperienza e anche il progresso della tecnologia ci hanno fatto capire che il test poteva assolutamente essere fatto a casa gli strumenti sono poco più grandi di un cellulare che vengono applicati all'addome o al fianco del paziente da esso partono una serie di sensori per esempio il sensore del flusso nasale un microfono del flusso laringeo per registrare il rumore del russamento due bande toraciche e addominali che consentono di capire come il paziente respira durante il sonno e come l'addome e il torace che dovrebbero avere un movimento consensuale durante la fase di sviluppo di un'apnea vanno in conflitto tra loro e non producono alcun flusso nelle vie aeree un altro sensore viene applicato al letto ungueale e ci dice come si sta sviluppando l'ossigenazione del sangue attraverso la misurazione della saturazione ossi-emoglobinica e infine alcuni elettrodi ci danno un elettrocardiogramma che in un monitor che sintetizza tutti questi dati ci fa capire come l'apnea per esempio può impattare sul sistema cardiovascolare oltre che sull'ossigenazione oltre che sul flusso respiratorio ci sono dei pazienti che sono particolarmente esposti a questo rischio? I pazienti esposti a questo tipo di disturbo sono in particolare i pazienti in sovrappeso per non dire anche i pazienti obesi quindi spesso noi ci troviamo davanti ai pazienti dei quali dobbiamo calcolare l'indice di massa corporea perché l'obesità è strettamente correlata allo sviluppo oltre che di russamento di apnea e nottuna del sonno e come ho detto prima alla loro associazione con disturbi cardiovascolari in primis l'ipertensione ma anche la predisposizione all'infarto miocardico ancora di più allo sviluppo di aritmie cardiache questo non vuole essere da parte mia un campanello di allarme ma invece un momento di sensibilizzazione per capire quanto è importante la diagnostica precoce perché ad esempio un soggetto obeso o comunque un soggetto in sovrappeso rientrando in un regime di peso normale può veder scomparire o comunque attenuare il numero delle apnee al punto tale che non ha bisogno della loro correzione e dunque abbattere con questo tutta una serie di fattori di rischio che come ho detto prima sono prevalentemente di tipo cardiovascolare ma anche di tipo metabolico perché per esempio ci siamo dimenticati del diabete che può essere anche associato alla obesità e quindi a tutta una serie che potremmo dire ha una sindrome che si sovrappone attraverso un insieme di malattie torniamo al nostro test una volta verificata la quantità la presenza di apnee e la loro quantità che informazioni ottiene il medico e come le può utilizzare? informazione classica rimanendo nell'ambito delle apnee notturne perché poi esistono anche altri disturbi respiratori del sonno il primo passo da compiere è quello di quantificare il numero delle apnee per ora abbiamo un indice che si chiama indice apnee ipopnee e che una volta che viene quantificato per esempio tra 10 e 20 può definire la sindrome delle apnee di grado lieve oppure un po' più in su un po' più frequenti le apnee di grado moderato oppure grave o molto grave molto spesso ci capita di osservare pazienti che hanno indici di 40, 50, 80 apnee per ora questi sono pazienti che devono effettuare una serie di correzioni immediate primo tentare di rientrare in un peso corporeo accettabile secondo applicare un ventilatore a pressione positiva continua nelle vie aeree che con un acronimo viene chiamato chip up che facendo affluire attraverso una maschera molto contenuta di dimensioni che viene applicata al naso un flusso aereo nelle vie aeree appunto per usare una ripetizione le tiene aperte cioè con una pressione di 7, 8, 10 cm d'acqua quindi una pressione di aeree un flusso d'aria a pressione bassissima noi riusciamo a mantenere durante il respiro del sonno le vie aeree completamente aperte e impedire il crollo della lingua che determina l'ostruzione delle vie aeree e quindi praticamente normalizzare il sonno del paziente questo è il presidio terapeutico più efficace più solido dal punto di vista delle evidenze scientifiche che noi possiamo applicare a un paziente con apnee ostruttive di grado moderato o grave e questa quindi la terapia con cui si interviene per ridurre diciamo ridurre le conseguenze delle apnee o addirittura guarire guarisce o non si guarisce mai? si può correggere e azzerare il fenomeno apnoico il problema è che se noi togliamo il ventilatore il paziente se non ha corretto i suoi fattori di rischio in particolare il sovrappeso ritorna nel giro di una settimana al suo livello precedente voglio dire anche che esistono anche altri presidi terapeutici ma ci sono altri due possibili interventi che sono supportati da efficacia della letteratura scientifica e che consistono nell'applicazione di un dispositivo di avanzamento mandibolare che viene fatto dagli odontoiatri specialisti in questo tipo di patologia e che avanzando appunto il corpo mandibolare fanno sì che la lingua sia dislocata più anteriormente e le vie aeree rimangano perbie non sempre questo presidio riesce a correggere perfettamente il numero di apnee però se il paziente non tollera la CPAP sembra essere l'unica strada praticabile un'altra possibile terapia è quella chirurgica ed è riservata a cliniche o torino specializzate in questo tipo di trattamento e in particolare l'intervento di uvolo palato faringoplastica cioè di una rimozione di parte del tessuto molle che è ipertrofico a livello dell'uvola, del palato, del faringe aumenta lo spazio di respirazione correggendo questo tipo di intervento ha una sua limitata efficacia e quindi i pazienti devono essere sempre selezionati c'è un test che classifica i pazienti in base a una scala che è stata inventata dal signor Mallampati che ha definito coloro che per esempio aprendo la bocca danno la possibilità al medico di osservare direttamente il faringe e invece ci sono dei pazienti che aprendo la bocca fanno vedere al medico solo un corpo linguale enorme e quindi già di lì si capisce l'impossibilità di passare di far passare aria per il processo di respirazione Nell'introduzione il dottor Buriani ci ha parlato della rilevanza che ha proprio nelle visite necessarie per prendere la patente o per rinnovarla quanto sia importante diciamo così la presenza o meno di questa patologia e perché? Perché la presenza di questa patologia può essere molto pericolosa per chi guida e perché invece è sulla strada ecco da questo punto di vista Da questo punto di vista finalmente dopo tanti anni nei quali le società scientifiche hanno fatto pressione per il Ministero dei Trasporti per modificare la normativa sulla acquisizione della patente di guida da alcuni anni è in vigore un decreto legge anzi proprio una vera e propria legge che prevede che durante la visita per l'acquisizione o il rinnovo della patente il paziente debba dichiarare di non essere affetto da questa patologia o nel caso fosse affetto da tale patologia deve dichiarare di essere controllato da uno specialista che verifica periodicamente l'efficacia del trattamento in corso questa è una cosa molto importante perché permette man mano che questa legge troverà un'applicazione più ampia di abbattere il potenziale di rischio di incidenti stradali non è un'applicazione più ampia non è un'applicazione più ampia non è un'applicazione più ampia